buongiorno a tutti sia a chi è intervenuto in presenza chi da casa da remoto iniziamo il quarto incontro del ciclo di seminari geografie insulari questo dal tema rappresentazioni insulari e che appunto segue una serie di parole chiave che hanno animato gli incontri precedenti oggi come discussante e come coordinatrice un po dell'incontro abbiamo luisa spagnoli dell'isem cnr che è ben nota per i suoi studi di cartografia storica di geografia storica non necessariamente focalizzati solo sui contesti insulari ma sicuramente anche su quelli e su come i contesti storici contesti spaziali storici siano stati rappresentati narrati descritti attraverso le fonti storico cartografiche o geostoriche in generale i relatori sono giulio tatasciore della scuola normale superiore di pisa e il sottoscritto quindi diciamo oltre essere coinvolto in qualità di organizzatore sono coinvolto in questo caso anche come relatore ovviamente un ringraziamento alla società geografica per la coorganizzazione per l'ospitalità e per tutto il supporto necessario e ricordo semplicemente che l'ultimo incontro sarà sempre martedì 23 maggio sul tema delle marginalità e vedremo come sarà declinato anche nei contesti insulari detto questo come da prassi lascio la parola a luisa spagnoli per l'introduzione all'incontro e ringraziandola comunque per aver voluto intervenire ed essersi prestata a questo ruolo di coordinamento e discussione allora sono io a ringraziare arturo per avermi reso partecipe di questo di questo evento e mi unisco ai ringraziamenti alla società geografica e ai saluti quindi do il benvenuto ai presenti e anche a chi ovviamente ci sta seguendo da remoto e devo sottolineare dar appunto rivolgere un ringraziamento sentito ad arturo per aver secondo me svolto veramente un lavoro ottimo con questi seminari perché questa è la seconda se non vado errata è la seconda edizione di un ciclo di un ciclo di seminari dedicati al tema delle isole dell'insularità un tema che è caro alla geografia però che arturo è riuscito per certi versi a luneggiare attraverso proprio una luce nuova dando una luce nuova dei connotati differenti perché ha cercato soprattutto di mettere a fuoco tematiche nuove che aiutano quindi a rinterpretare le isole e il tema dell'insularità in una dimensione più sfaccettata e poi un grande merito anche nell'essere riuscito soprattutto con questa seconda edizione a mettere a confronto fare un ragionamento aprire sollevare un dibattito un confronto anche con discipline differenti quindi non solo la geografia nelle sue declinazioni geografia storica geografia sociale geografia umana ma anche nuove tecnologie anche antropologia culturale e anche storia e via discorrendo quindi secondo me è un proposito molto molto importante e con oggi come giustamente vi ricordava arturo oggi il tema io sono convinta che anche gli interventi di oggi saranno altrettanto significativi di quelli che ci hanno preceduto e soprattutto che contribuiranno ad accrescere qualitativamente la nostra conoscenza le nostre conoscenze sul tema delle isole e dell'insularità in particolare ricordava arturo il filo conduttore quello delle rappresentazioni rappresentazioni ovviamente di diverso tipo anche qui ritorno un tema caro alla geografia in particolare quello delle rappresentazioni cartografiche quindi questo unico filo conduttore questo filo rouge che unisce entrambe le letture che riguardano la rappresentazione e la costruzione dell'immaginario da una parte la rappresentazione cartografica appunto di cui ci parlerà arturo gallia e dall'altra invece l'immagine folcloristica stereotipata se volete del bandito del brigante del bandito che ovviamente si nutre di uno stereotipo collettivo mi taccio presentando anche se insomma mi sembra un tipo presentare l'organizzatore di questi seminari però nel ruolo di coordinatore lo devo fare quindi come ben sapete arturo è un geografo è ricercatore all'università di roma 3 i suoi interessi di ricerca sono vari ricordo in questo contesto in particolare le società insulari il tema delle società insulari nel mediterraneo moderno e contemporaneo la cartografia storica letta anche attraverso l'ottica delle digital humanities e e la didattica della geografia non a caso i suoi insegnamenti all'università di roma 3 sono appunto didattica della geografia e gis per i beni culturali tra i diverse le diverse pubblicazioni scientifiche che ha prodotto nel corso degli anni ricordo due volumi il volume historical gis strumenti digitali per la geografia storica in italia con massimiliano grava camillo berti e nicola gabellieri e le risorse idriche nell'isola di ponza quindi lascio la parola ad arturo che appunto ci parlerà soprattutto di rappresentazioni cartografiche legate alle isole relative all'unico grazie grazie luisa per l'introduzione e appunto il mio intervento vuole proporre una riflessione se volete non nuova ovviamente sul rappresentazione delle isole anche delle società delle azioni umane nelle isole attraverso la fonte cartografica la cartografia storica sappiamo bene che è un dispositivo che non è solo iconografico non è testuale ma è complesso e sfaccettato che ha anche diciamo valori semantici multipli ovvero non è solo l'immagine topografica di un contesto spaziale questo caso del passato e di un contesto insulare ma è appunto un dispositivo che ci permette di decifrare attraverso la costruzione della carta stessa di decifrare l'azione umana sul territorio nel corso nel corso del tempo e quindi l'obiettivo è cercare di comprendere come attraverso l'analisi cartografica si possa andare a decostruire a ricostruire le dinamiche territoriali che hanno interessato in generale poi anche nello specifico contesti insulari specialmente contesti insulari minori vale a dire le piccole isole perché le piccole isole perché come diciamo è ormai abbastanza noto anche all'interno degli island studies e in italia nello specifico le piccole isole si pongono come un laboratorio geografico e nell'ambito della cartografia e della cartografia storica come laboratorio narrativo delle dinamiche territoriali e quindi può essere interessante andare a ricostruire per l'appunto dinamiche in contesti che altrimenti le soli fonti geografiche contemporanee o le fonti documentali storiche d'archivio da sole non sarebbero sufficienti quindi la cartografia per andare a leggere in una lettura di acronica questi questi aspetti legati alle alle isole proprio perché l'immagine cartografica non è solo una fotografia di un determinato momento un'istantanea ma appunto è un palinsesto culturale costruito da un prodotto prodotto dall'uomo dalle società umane che hanno vissuto in quel contesto che comunque lo hanno analizzato per quanto riguarda le isole dobbiamo tenere presente che spesso la produzione cartografica è all'ottona è esterna quindi è una visione comunque esterna di un territorio altro e spesso ecco questo è un discorso che comunque può essere interessante e negli island studies si sta cercando di costruire spesso la visione dell'isola della società insulare ha un approccio diciamo imperialista coloniale o meglio l'osservatore esterno che descrive un territorio altro senza tener conto delle società locali quello che invece gli island studies stanno cercando di compiere negli ultimi anni possiamo dire anche decenni ormai è dar voce agli attori locali quindi agli islanders e con la cartografia storica ovviamente è un po complesso proprio perché questa produzione è prettamente esterna proveniente da dall'esterno però tenendo in considerazione questo punto di vista sicuramente possiamo compiere un'analisi più più completa insomma ovviamente quando sappiamo bene che quando trattiamo in generale cartografia storica la sola cartografia la sola carta il solo documento cartografico non è sufficiente per compiere un'analisi completa necessita sempre di un'integrazione di fonti un'integrazione di documenti differenti anche attingendo a documentazione non prettamente geografica quindi anche atti notarili se volete o relazioni insediamenti diciamo documenti di natura militare e via dicendo sicuramente le nuove tecnologie possono aiutare anche nell'analisi della cartografia storica quindi del contesto storico ma ovviamente la questione più importante la questione principale sempre qual è la domanda di partenza l'indagine storico geografica questo pretende se vogliamo e quindi la cartografia storica come strumento per andare a comprendere le dinamiche storiche di un contesto insulare di un contesto insulare dicevamo minore ci permette un'analisi comparativa tra più carte la sola immagine topografica già solo quella ci permette di comprendere l'evoluzione degli degli insediamenti nelle isole e quindi anche andare a osservare il grado di impatto antropico sull'isola e anche l'evoluzione del tessuto urbano su questo è bene tenere in considerazione che per quanto riguarda le isole minori italiane quindi di fatto tutte le isole escluse sardegna e sicilia dobbiamo tenere in considerazione che la maggior parte fino al diciottesimo secolo è è stata spopolata o meglio ha visto la presenza umana in maniera sporadica e solo stagionalmente senza un processo di territorializzazione completato quindi sicuramente ci sono stati degli interventi degli interessi occasionali ma non continuativi sicuramente in età medievale c'è stata la presenza di alcuni gruppi umani di piccole dimensioni soprattutto legate anche alla presenza di monasteri o eremi ma possiamo contare veramente poche unità al massimo poche decine di persone molte isole appunto sono state spopolate fino al 700 quando è iniziato un processo di popolamento popolare per controllare principalmente ma non ma non solo anche come forma di governo attento alle questioni sociali per cercare di evitare la pressione demografica in determinati contesti ma principalmente popolare piccoli contesti insulari per controllare spazi marini siamo in un momento di gran fermento del mediterraneo e alla fine del secolo e successivamente inizia quel processo di formazione degli stati nazionali per cui le isole diventano elementi di scambio dal punto di vista diplomatico ma anche avamposti militari o a controllo delle coste quindi a difesa delle coste o per come testa di ponte per offendere le coste e quindi la carta storica che ci permette di andare a comprendere le tipologie di insediamento di nuova fondazione nel settecento se ne possono contare diverse soprattutto nell'area napoletano siciliana quindi nel regno in quello che poi sarebbe stato il regno delle due sicilie nascono diversi insediamenti di appunto di nuova fondazione che non sono semplicemente concessioni via di abitare determinate terre sulle isole ma sono trasferimenti di persone da altri contesti spesso da altre isole accompagnati da politiche di governo specifiche anche fiscali tipo l'esenzione delle tasse oppure materiali come la costruzione di palazzi di edifici legati al governo del territorio chiese magazzini e e via dicendo l'esempio che vi mostro sono due carte conservata la biblioteca nazionale di Napoli che riguardano l'isola di Ustica che è stata avvolata nel 1753 e l'insediamento urbano di cui vedete un'immagine anche satellitare rispecchia una forma regolare molto simile alle piante urbane a pianta ortogonale tipiche delle città di nuova fondazione che la monarchia spagnola stava compiendo in Italia nella penisola iberica ma anche nei territori spagnoli in america nelle americhe e quindi una pianta regolare che appunto possiamo riconoscere ancora oggi che la cartografia ci mostra sia in una fase progettuale l'immagine in alto sia in una fase poi invece descrittiva di quello che effettivamente era stato edificato quindi una cartografia che ci mostra come alcuni processi culturali tecnici urbanistici architettonici si siano diffusi in contesti insulari diversi quando forme di governo facevano le forme di governo facevano capo ad un'unica corona o simile insomma in un contesto fratello cugino potremmo dirlo ovvero quello dell'isola di ponza che vede il popolamento pochi anni precedenti 1734 sempre sotto la corona napoletana dei borbone avviene un processo di popolamento per controllo per controllare sia l'isola sia il tratto di mare di fatto al confine tra stato pontificio e regno di napoli solo che nel 1734 siamo ad ottobre pensate che carlo era stato incoronato maggio quindi uno dei primi procedimenti anche piuttosto rapido prevede semplicemente l'assegnazione di terra in maniera libera dove il colono arrivava si poteva andare a collocare e poi veniva trascritta la sua localizzazione ovviamente è un processo che non ha successo bisogna aspettare il 1768 poi 72 quando nuove nuovi coloni vengono portati sull'isola e soprattutto avviene un processo di costruzione vera e propria materiale dello spazio insulare soprattutto nell'area del porto con la realizzazione del nuovo porto e gli edifici di governo quindi magazzino un palazzo del governatore una serie di anche di abitazioni per favorire proprio l'insediamento in questo caso per la natura del del territorio o meglio proprio delle la natura la morfologia del terreno dell'isola non è possibile realizzare una pianta regolare su base ortogonale come quella di ustica ma di fatto l'abitato si va a modellare appunto sull'insenatura e sulle pendici dei dei colli qui la cartografia ci mostra esattamente quali sono gli insediamenti dobbiamo immaginare questa è una carta del 1816 16 17 peraltro questo è un esemplare molto bello perché è fatto sul lucido è conservato anche questa la biblioteca nazionale di napoli e ci mostra appunto un'immagine una restituzione del lo stato insediativo nell'isola appunto al 1816 17 confrontando con un'immagine satellitare è vero che c'è stata un'edificazione incredibile nella stessa insenatura ma le direttrici di espansione e di controllo e vita del del territorio rimangono di fatto le stesse sempre lì che ancora oggi avviene la vita la vita estiva quindi diciamo in questo caso l'immagine topografica che ci permette appunto di ricostruire vicende è evidente lo avete sentito sono vicende che possiamo però ricostruire non solo attraverso le carte dobbiamo comunque avere una conoscenza approfondita dei degli eventi dei fenomeni e quando non non avviene solo diciamo una lettura topografica delle isole noi possiamo appunto andare a decostruire la carta e andarla a leggere nei suoi aspetti semantici se vogliamo più profondi un esempio rimanendo sempre nel contesto delle isole ponziane ma ovviamente possiamo ampliare raggiudazione anche ad altri di analisi ad altri contesti riga riguarda questa carta del 1572 1571 72 filippo secondo re di spagna provvede a la fortificazione delle coste mediterranei pertinenti alla propria corona tra cui anche quelle del regno di napoli le isole trovandosi appunto dicevamo prima al confine tra stato pontificio e regno di napoli non è ben chiaro a chi siano soggette perché dal punto di vista religioso erano sotto il controllo dei farnese e quindi molto vicine al papato e quindi molto vicino a roma dal punto di vista militare non c'era una guarnigione fissa ma una guarnigione da gaeta quindi regno di napoli controllava indirettamente le isole il il castellano di gaeta antonio barrientos viene incaricato dal vicere di napoli per co di compiere una investigazione sulle isole e una relazione anche su che cosa sarebbe stato opportuno costruire dal punto di vista difensivo e lui produce una relazione accompagnata da una carta spesso le carte accompagnano accompagnavano le relazioni anche politiche come in questo caso è una carta manoscritta evidentemente dal punto di vista topografico molto poco corretta se vogliamo ma ricca di informazioni innanzitutto mostra la costa tra la costa diciamo tirrenica quindi da roma a napoli con anche l'indicazione del confine del confine tra regno e papato con anche le distanze dai principali porti e questa informazione pratica assolutamente interessante dopodiché per ogni isola che non sia ponza indica le strutture da realizzare è da realizzarsi una torre che possa ospitare venti soldati e via dicendo una lunga leggenda descrive i luoghi e gli edifici trovati sull'isola non ci sono toponimi se non due ma questo lo vedremo più avanti e ci sono descrizioni appunto tra queste descrizioni quelle forse più interessanti sono quelle indicate proprio in fondo vale a dire con un simbolo che non è una lettera sono indicati e qui leggendo proprio la didascalia la leggenda tali segni sono cisterne grandissime quindi indica la presenza di grandi cisterne tra parentesi di epoca romana dove c'è acqua perfettissima cioè quindi acqua molto buona e anche da bere quindi un popolamento sarebbe possibile così come anche controllare queste risorse d'acqua per andare a le navi è un'informazione assolutamente interessante un'altra informazione che forse è ancora più interessante è quella data dalla lettera y che vi ho segnato qui in rosso che cosa sono indicati con la lettera y due pozzi fatti dai turchi che danno abbondante acqua questa è un'informazione apparentemente simile a quella precedente ma che ha un risvolto se vogliamo un politico molto più importante i turchi quindi diciamo i nemici per eccellenza l'altro per eccellenza sono stati sull'isola e hanno avuto il tempo di costruire due pozzi due pozzi da cui ricavano acqua abbondante e buona per il proprio abbeveramento e questo vuol dire che se noi non controlliamo sto ovviamente parafrasando se noi non controlliamo questa isola è probabile che la prossima volta che i turchi arriveranno hanno già l'acqua a disposizione si insedieranno e saranno pronti per attaccarci quindi in un'ottica di difesa delle coste del regno è bene che siamo noi ad occuparci della difesa e fortificazione questo convince abbastanza il insieme alla relazione ovviamente poi ho perdonate ho un po romanzato se volete però convince il vicere di napoli e quindi anche filippo secondo a riaffermare la pertinenza napoletana e spagnola sulle isole e contemporaneamente però darle in feudo ai farnese quindi insomma il gioco di potere si va a poi a concludere in questo modo sta di fatto che fino al settecento a parte una torre e una piccola guarnigione di soldati grandi lavori non furono mai mai fatti dicevamo prima la cartografia ci permette di appunto andare a vedere le evoluzioni di un territorio partendo proprio da quella del 1572 vi mostro alcune carte molto rapidamente una del della prima metà del del diciassettesimo secolo isole di ponzio questa conservata all'archivio di stato di napoli è interessante perché ci mostra gli elementi principali sia della costa dell'isola sia degli diciamo gli edifici quindi l'azione l'attività antropica quindi la presenza appunto di questa torre e di un molo di alcune chiese come appunto abbiamo santa maria pianura sant'antonio pianura cioè che si trovavano in area piana perché poi c'era anche diciamo quella che oggi viene chiamata punta della madonna perché c'era appunto la presenza di un edificio religioso dedicato a santa maria così anche la presenza di torri in realtà di torri vere e proprie non si doveva trattare diciamo l'indagine archeologica in questo caso attirato ha evidenziato la non presenza di torri ma probabilmente di piccole guarnigioni anche qui il significato simbolico della carta andava a evocare appunto una presenza militare che effettivamente non c'era qui è interessante perché è uno dei pochi casi in cui il toponimo si trova laddove è il luogo denominato mentre per buona parte del anche del settecento i toponimi si trovano sulle leggende laterali invece questa carta forse anticipa forse un caso eccezionale forse non c'era spazio abbastanza lateralmente per fare le le leggende una carta di fine settecento questa perdonate di pessima qualità ma diciamo è difficile averne una copia perché è una collezione privata ci mostra anche qui un'isola che dal punto di vista topografico non è assolutamente corretta noi oggi la dobbiamo immaginare come fosse l'isola di ponza una i in corsivo come scrive a baldacci mentre qui viene rappresentata come una c veniva data maggiore enfasi all'insenatura principale la cosa interessante al di là degli stessi elementi che ritornano presenza i monasteri e di torri è la presenza siamo a fine seicento quindi non c'è stato ancora il popolamento settecentesco la presenza di un'area di boscata quindi senza copertura arborata evidente e la leggenda ci indica la presenza di una vigna e quindi un insediamento agricolo che effettivamente c'era già alla fine del seicento attestazioni documentali altre ci dicono che effettivamente una certa produzione di vino comunque uva in generale ci doveva essere però non c'era una presenza stanziale di persone quindi probabilmente un uso anche stagionale sappiamo che per buona parte dell'anno la vigna non necessita di grandi cure quindi è ipotizzabile appunto la presenza di questa pur in assenza di un insediamento stanziale la cartografia che può essere digitale un'elaborazione digitale con informazioni storiche questa diciamo l'ho presentata più volte che comunque ci mostra le aree di insediamento dei coloni nelle tre fasi di popolamento e quindi l'area inizialmente quella a sud quella dell'insenatura principale e poi progressivamente verso nord con anche quella in blu è l'area di coltivazione vale a dire l'insediamento abitativo era in una determinata zona quello poi effettivo legato appunto alla allo sfruttamento dei terreni terrazzati era abbastanza più più ampia e questo ce lo dimostra un'altra carta storica vale a dire quella realizzazione precedente è stata realizzata da un corpus a partire da un corpus documentale realizzato proprio nel 1768 diciamo poco prima del secondo popolamento meglio a cavallo un agrimensore da napoli viene inviato proprio per valutare lo stato insediativo dell'isola sia dal punto di vista appunto abitativo che dal punto di vista dello sfruttamento dei terreni e redige una pianta dell'isola a colori acquarellata a colori dobbiamo immaginare che siamo già nella seconda metà del settecento le misurazioni trigonometriche iniziano ad esserci questa è fatta a mano e assolutamente non precisa dal punto di vista geometrico è interessante anche la sua bozza perché ci permette di interpretare alcune operazioni ma forse ancora più interessante un libretto di 24 carte che vedete qui sotto che mostra delle parcelle che non sono catastali ma hanno un po la stessa funzione mostrare sì sì la vocazione cabreistica dimostrare il possedimento associare una un appezzamento di terra a un proprietario e al tipo di risorse coltivate o presenti presenti intese anche come intese anche come grotte o corsi d'acqua sono appunto 24 tavole che mostrano che cosa era coltivato e come anche attraverso l'indicazione di terrazzamenti vedete delle linee orizzontali dovete immaginare un terrazzamento osservato frontalmente quindi la porzione divisa per linea ogni linea è un terrazzamento oppure appunto la presenza di grotte o di colture e le colture prevalenti sono appunto legate alla vigna non c'è olivo ma c'è prevalentemente vigna non è possibile georeferenziare queste tavole perché insomma sebbene ci siano le misure immogia napoletane poi in realtà dal punto di vista geometrico sono assolutamente imprecise poi vi mostro anche un dettaglio ulteriore che rafforza questa indicazione ma le informazioni geografiche legate all'orientamento ci permettono bene o male di localizzare l'appezzamento vale a dire in ogni tavola è sempre indicato dove si trova l'oriente in alto e quali sono le zone confinanti ad esempio questa che possiamo osservare oriente in alto quindi l'est è in alto e di confine ci sono i beni le terre di un altro possidente a nord di un altro ancora a sud di un altro mentre a ovest c'è la via la strada e così anche in questo caso a sud c'è il bosco reale oppure negli altri verso gli altri punti cardinali altre altri possedimenti questo è molto interessante ad esempio perché mostra la presenza di grotte ma anche la presenza di un corso d'acqua ora non ci sono corsi d'acqua perenne a ponza dobbiamo pensare a ruscelli o torrenti occasionali legate alle precipitazioni meteoriche e questi solchi di fatto venivano utilizzati anche per percorrere terrazzamenti in verticale quindi per muoversi verso l'alto e verso il basso nel terrazzamento quindi vi mostro una serie di immagini ecco questo è interessante perché parliamo del territorio pietro mazzella sopra chiaia iluna chiaia iluna è un toponimo che esiste una delle spiagge anche note dal punto di vista turistico a est ci sono i beni di ignazio onorato e il bosco reale quindi un'area oggi diremmo demaniale a nord ea sud anche bosco reale mentre a occidente la ripa del mare in effetti trovandoci sopra chiaia iluna a ovest c'è proprio la falesia della spiaggia qui è interessante perché dice sempre viene sempre detta l'informazione la misura sempre in moggia del terreno sono moggia 6 con 60 grotte che quindi sono tante di cui 4 di abitazione le grotte utilizzate anche come ricovero non solo degli animali o degli attrezzi agricoli ma anche per abitare peraltro questo terreno probabilmente è là dove è stata riconosciuta esserci stata sia una cava sia un insediamento paleocristiano quindi già un insediamento antropico di vecchio periodo e così altre indicazioni ad esempio questo territorio di mattia mazzella santa maria santa maria era la zona dove i mazzella la famiglia mazzella si erano insediate e quindi ci mostra possiamo andare a riconoscere qui oltre al corso d'acqua che peraltro viene proprio detto fosso d'acqua c'è anche un pozzo quindi probabilmente la presenza di una cistè nel suo accesso la carta è interessante perché ci mostra gli elementi principali indicati nella leggenda questa carta una doppia leggenda una sinistra una a destra quella sinistra dei luoghi degli edifici più importanti quella a destra che ritroviamo anche nella bozza invece ci mostra le indicazioni legate a i possedimenti alle particelle terreni e del terreno non è propriamente l'equivalente di un registro catastale però è un elenco che in qualche modo è coerente con l'altro documento è sempre la stessa mano che la realizza e la cosa interessante che qui viene detto anche la tipologia culturale viene esplicitata perché ad esempio c'è territorio campese quindi coltivato a orto fondamentalmente vitato e bosco quindi ci dice la copertura del suolo territorio vitato e campese con poi anche il proprietario e la dimensione e via dicendo anche qui campese vitato e bosco e via dicendo la localizzazione no delle particelle si questo sicuramente poi ha facilitato facilitato si fa per dire però si considerando che tutto uno dovrebbe avere comunque un quadro di unione ben definito per riuscire perché la difficoltà mi ci sono trovata e che non è semplice quindi per certi versi nonostante sia un elenco descrittivo però ti può rafforzare quell'orientamento che tu hai utilizzato per la localizzazione qui questi numeri effettivamente poi sono riportati sulla carta però appunto vista l'imprecisione della carta ci possiamo orientare e basta e finisce lì anche per andare come dire a spezzare una lancia verso chi è contrario a una georeferenziazione per forza non non è necessaria certe volte ci orientiamo un elemento in più si si è un elemento calizzarli certo non puoi localizzare perfettamente la particella però già insomma localizzarla sulla satellitare la carta che devi mostrare insomma è già è già un è un punto ci sta assolutamente sì ovviamente la cartografia storica ci permette di entrare nel dettaglio sui processi di trasformazione anche su come era il primo progetto di realizzazione del porto il progetto di è stato di antonio windsberg capostipite di una famiglia abbastanza poi fortunata nel regno di napoli ci fu un duca e poi fino a arrivare al regista cinematografico che un erede di quella famiglia e l'immagine attuale così come anche altra cartografia come quella che abbiamo visto prima ci permette comunque di osservare come il primo progetto poi non sia stato quello definitivo una cosa interessante proprio a dimostrazione dell'imprecisione di quelle mappette protocatastali di antonio grasso è una lettera che whisper invia a napoli lamentandosi dell'operato di grasso e dei suoi aiutanti perché andava a misurare i terreni con le catene non andando a rispettare il terrazzamento ma tracciando una linea obbligua dall'alto verso verso il basso quindi diciamo una misura non estremamente precise e precisa piuttosto approssimata ed è interessante vedere come la documentazione ci mostri anche questi aspetti che spesso non non vengono evidenziare però diciamo non è una fonte così pessima quella di agostino grasso queste mappette perché in realtà ci mostrano appunto diverse informazioni come l'uso del suolo ma anche ci hanno permesso di ricostruire uno uno schema un modello interpretativo dell'insediamento vale a dire l'insediamento agricolo e abitativo avveniva su uno stesso modello una spina centrale con delle linee orizzontali che seguivano di fatto i terrazzamenti lo vedete anche nella foto l'isola prevalentemente collinare era stata proprio nel settecento completamente terrazzata ma ancora oggi riconosciamo dei terrazzamenti quasi fino fino al mare proprio per favorire la lo sfruttamento e la coltivazione dobbiamo immaginare questi percorsi che poi sono diventati sentieri e poi sono diventati anche scalettati che permettevano il passaggio da un terrazzamento all'altro e a destra e a sinistra si aprivano i terreni e poi anche le case anche perché sappiamo che le case sono in alcune tipologie di case sono l'evoluzione dell'abitazione in grotta quindi la grotta che è avanzata e poi si è sopraelevata o estesa e in generale questo l'ha studiato anche l'architetto massari se non sbaglio sì questi schemi in realtà sono di due tipi sempre una spina centrale con delle ali che si aprono destra e sinistra ma la casa si può trovare o in prossimità della spina o in prossimità dei lati più esterni e qui vi ho riportato i due schemi in rosso e in grigio e spesso coesistevano con appezzamenti c'erano appezzamenti anche isolati distanti dalle abitazioni ma in prossimità delle abitazioni spesso potevano coesistere anche degli appezzamenti questo lo riscontriamo ancora oggi questo schema e diciamo in questo caso grazie alle geotecnologie l'abbiamo potuto evidenziare meglio ovvero attraverso dei voli di drone di drone e riconosciamo proprio questa spina centrale e poi qui peraltro anche in presenza di una grotta e poi appunto i terreni coltivati a destra e a sinistra peraltro qui sono due foto a costanza di tre anni dello stesso appezzamenti anche appezzamenti non più coltivati ma abbandonati si può in alcuni casi si può riconoscere la stessa struttura massari non massari e quindi il modello insediativo che vi propone ora per un attimo ok sì qualche minuto cerco di andare un pochino un po rapido per andare a osservare come la rappresentazione delle isole sia stata presente nella cartografia fin dall'antichità vale a dire dobbiamo immaginare anche la cartografia greca ma pensiamo anche quella italiana l'isola rappresenta rappresentava un punto fisso nel mare quindi era un elemento di orientamento nella vastità di mare anche e quindi veniva rappresentata nelle carte anche quando era solo avvistata da lontano o comunque non era stata non si era non era stata acquisita non si era scesi sull'isola era solo vista da lontano e questo un po ricalca se volete anche il discorso che l'isola nelle carte è rappresentata anche solo quando è avvistata ma anche quando è immaginata l'elemento probabilmente una delle isole più famose immaginate o immaginarie discutevo con mirco su immaginata immaginaria poi riprenderemo questo discorso più avanti forse la più famosa è l'isola di tule e a cui cucina dedicato pure una canzone e di fatto è un po la metafora di mondi ignoti o sconosciuti quindi andare a collocare un'isola distante un'isola intesa anche come un mondo a sé un universo a sé distante irraggiungibile circondata in questo caso da mostri quella precedente invece quella in alto invece un'isola avvistata veduta da bunker un generale dell'esercito inglese se non sbaglio nelle coste pacifiche degli degli attuali stati uniti che per due volte vide un gruppo di isole senza mai poter scendere e ne lasciò traccia documentandola però insomma è un'isola sono isole che rimangono comunque effimere perché non hanno avuto riscontro tant'è che poi effettivamente da quello che risulta non erano realmente realmente isole l'isola immaginata o l'isola fantastica è anche l'isola dei romanzi se vogliamo e con che vengono raccontate anche con precisioni precisione geografica talvolta cartografica anche particolarmente interessante per noi geografia famosa la carta dell'isola del tesoro di disegnata da stevenson in persona è pubblicata nella prima edizione del volume proprio per guidare il lettore del romanzo in questo nel nel percorso è interessante come poi l'isola fantastica del romanzo questo caso il romanzo di robinson crusoe viene riportata sulla sulle carte sugli atlanti in diversi atlanti questo è un mappamondo di metà ottocento planisfero di metà ottocento viene indicata una delle due isole dell'arcipelago di san juan fernandez a ovest del del cile viene indicato il toponimo e sotto anche famosa per il romanzo di robinson crusoe quindi il romanzo che torna nella cartografia se vogliamo ufficiale o meglio nella cartografia scientifica quindi come questo trasferimento di nozioni non sia monodirezionale non è romanziere che si che acquisisce l'informazione recepisce l'informazione geografica ma è anche il geografo il cartografo che riprende l'informazione narrativa narrata e che interessante questo doppia direzione della narrazione e questo in realtà è interessante anche perché buona parte della geografia fantastica anche recentissima di fatto rispetta caratteristiche geografiche cartografiche assolutamente coerenti per un cartografo propriamente detto l'esempio che vi mostro è l'isola di lost una delle serie tv che diciamo appassionato molto proprio per la presenza di quest'isola che era un universo distante da tutto peraltro era un'isola errante perché si muoveva e è stata realizzata una carta che ricostruiva l'isola nella 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 serie tv le riprese erano fatte su un paio di isole delle hawaii però poi in realtà l'isola era completamente descritta in maniera completamente diversa anche con quindi questa restituzione cartografica anche diciamo con uno strumento di tridimensionalità abbastanza accattivante se vogliamo e la stessa cosa avviene anche con un videogioco abbastanza popolare grand theft auto dove la città di vice city che dove avviene il le avventure del videogioco viene rappresentata dagli stessi autori in questo caso del videogioco in maniera geografica molto precisa peraltro esiste un sito web proprio per muoversi come se fosse un google maps nella carta del videogioco e come su google maps noi possiamo cambiare la mappa di base da topografica a satellitare così si può fare anche su questo sito quindi come la visualizzazione in stile di google maps abbia poi influito la restituzione cartografica di un'isola fantastica inventata dai produttori del videogioco quindi diciamo questa commissione che a volte è difficile anche andare a come dire mettere i paletti sul su una parte sull'altra senza andare diciamo tornando un pochino indietro è famosa anche l'isola che non c'è quella di peter pan anche qui è molto vicina se vogliamo all'isola di tulle perché un'isola appunto che viene solo immaginata il bennato ci dà anche le coordinate seconda stella a destra questo è il cammino e poi dritto fino al mattino poi la strada la trovi da te porta all'isola che non c'è questo è solo il primo il primo verso però questa questa isola probabilmente anche per la fortuna data dalla disney è stata completamente ricostruita con gli elementi principali che che emergono e quindi è interessante ancora come questa restituzione cartografica ci permetta di materializzare qualcuno uno spazio che altrimenti è semplicemente fantastico e la cartografia permette appunto questa materializzazione questa fissare questo cristallizzare una una idea io non credo di avere molto tempo ancora anzi ho terminato quindi la parte sulla toponomastica che la lascio un altro giorno è sicuramente interessante chiudo con questo andare a vedere come la toponomastica possa essere assolutamente interessante nell'andare a decifrare ancora di più la carta ma anche il processo insediativo che riguarda le isole e perché appunto a seconda delle diverse scale ci permette di veicolare diversi messaggi vi lascio con questa carta dell'archivio di stato di napoli sempre sull'arcipelago ponziano dove compare a ponente e c'è anche l'indicazione geografica che ce lo ricorda l'isola di palmarola vista non impianta ma di profilo a nord a tramontana che dice greco tramontana quindi grecale tramontana l'isola di zannomi anche questa vista di profilo con le indicazioni dove si trova il monastero a est a levante l'isola di ventotene vista impianta perché più lontana quindi al centro invece l'isola di ponza che non c'è ma è il toponimo che fa l'isola e questo in qualche modo ci dimostra che probabilmente il cartografo era a ponza quando ha disegnato questo il disegnatore ha disegnato questo schizzo perché vedeva il profilo di palmarola vedeva il profilo di zannone non vedeva ventotene quindi lo ricostruiva in pianta e non aveva bisogno di disegnare ponza perché era a ponza e questo il toponimo che ci permette il nome che ci permette di individuare la stessa insola poi questo discorso sulla toponomastica lo riprenderemo un altro riservi più tardi grazie arturo io ti ringrazio per questa carrellata che ci ha offerto di cui discuteremo subito dopo l'intervento di che chiamo giulio giulio tatasciore grazie veramente arturo per la per la semplicità con cui tu racconti degli argomenti affronti delle tematiche in realtà molto complesse e quindi riesce ad appassionarci a ovviamente a quello che ci che ci rappresenti e che ci racconti e adesso passo la parola a giulio giulio tapasciore che è assegnista è uno storico visto che ho presentato arturo come geografo ma che già lo conoscono tutti forse giulio qualcuno non lo conosce è uno storico è assegnista di ricerca alla scuola normale superiore di pisa insegna storia del risorgimento all'università roma 3 e tra i suoi interessi di ricerca in particolare storia culturale e politica del lungo ottocento tra la sua numerosa le sue numerose pubblicazioni scientifiche ricordo i suoi due ultimi volumi si tratta il primo è una monografia una monografia dedicata ai briganti d'italia storia di un immaginario romantico e l'altro volume è una curatela ha curato l'edizione di lo spettacolo del brigantaggio cultura visuale circuiti mediatici fra 7 800 entrambi edizia viella quindi lascio la parola a giulio e anche a giulio raccomando una quarantina di minuti grazie grazie mille e la le prime parole sono di scuse perché sono arrivato leggermente tardi ma come dire il ballico degli appennini continuo a essere problematico mettiamola così allora io ho interpretato diciamo questo questa occasione come un momento per ritornare su un tema che è un po questo l'intersezione tra la costruzione di un'identità regionale e le figure criminali attraverso un caso che è quello della rappresentazione della corsica ottocentesca per affrontare questo tema partirei da un geografo cioè da conrad maltebran o maltebrun come vogliamo chiamarlo in italia che non è questo protagonista del grande ritorno delle geografie universali primo ottocentesche delle geografie narrative e descrittive e che quindi mi interessava come punto di partenza per delineare il tipo la questione del tipo maltebrun o maltebron chiamiamolo in italiano e la risolviamo maltebrun descrive nella sua geografia universale appunto il corso il tipo del corso che è di taglia media ben fatto diciamo così vigoroso espressivo riservato altero ma anche selvaggio questa ovviamente la parola chiave coraggioso intelligente energico pieno di ardore ma grande sicurezza in se stesso fierezza avido d'onore ovviamente sto estrapolando le parole chiave sono tutte qualità che fanno del corso dice maltebrun nella geografia universale qualche cosa che non si trova che lo distingue dalla popolazione francese ovviamente e poi c'è il dettaglio di un uso questa è la sezione sugli usi e costumi dei corsi che è quello della vendetta e poi ovviamente descriveremo di cosa si tratta ma appunto mi interessava evocare questo aspetto descritto come un elemento caratterizzante viene descritta la vendetta come il sistema della vendetta come un sistema ereditario tutto questo dimostra appunto una volta di più che che la corsica è altra dice maltebrun la sua lingua ma soprattutto i suoi costumi i suoi istinti i suoi sentimenti non sono francesi e sempre l'italia in realtà non l'italia di roma o di firenze degli artisti dei poeti ma l'italia della sardegna e della sicilia isole no rude severa povera selvaggia dove il bandito è ancora popolare eccoci qua eccoci qua ai banditi corsi però allora da un punto di vista come dire giuridico il tema del banditismo rispetto alla corsica è antico al tempo della dominazione francese scusate della dominazione genovese emerge questo questo aspetto no la tradizionale messa al bando dei criminali proscritti che allontanati dal paese di origine non necessariamente rispettano diciamo il questa misura e allora si davano alla macchia la macchia è l'altro elemento topico di tutto questo discorso che andremo a fare trasformandosi in pericolosi fuori legge quindi in virtù non solo appunto di una come dire della macchia ma soprattutto in virtù di solide relazioni reti di relazione con le comunità locali di appartenenza questo ciò detto diciamo non ci sono dubbi sul fatto però che l'invenzione la costruzione culturale della figura tipizzata del bandito d'onore corso è in realtà un'invenzione appunto dell'ottocento e in particolar modo di quella che con un termine forse vago ma pertinente possiamo definire sensibilità romantica e qui in un periodo marcato in realtà dalla questione criminale più in generale che il bandito d'onore si ritaglia uno spazio di rappresentazione autonomo e si colloca quindi in una posizione peculiare nell'universo delle figure devianti un altro elemento di interesse da richiamare e che però questa figura conserva un elemento di attualità oggi nel senso che se facciamo un giro in corsica ma questo vale per tanti luoghi e tanti però siamo al caso il fantasma del bandito turistico ormai lo trovate dappertutto come dire in forme edulcorate folcloristiche oppure in forme identitarie quindi un patrimonio storico turistico interpretabile per esempio in chiave autonomistico nazionalista nel discorso autonomista corso indipendentista addirittura c'è un elemento allora di appropriazione quindi possiamo tentare un percorso di storicizzazione insomma di questo di questo tipo e comincerai collocandoci alla fine delle guerre napoleoniche sostanzialmente e in un momento in cui dopo la rivoluzione dopo l'impero l'isola vive in realtà una fase di relativa stabilità politica ed è quindi il momento in cui i prefetti giudici francesi ormai francesi inviati dall'amministrazione centrale come dire esercitano il ruolo di legislatori di gestori dell'ordine ma anche di esploratori e possono finalmente indagare più o meno in profondità usi e costumi di una popolazione ancora largamente sconosciuta la corsica luogo di economia pastorale che sembra però distinguersi per dei meccanismi di socialità che appaiono arcaici se non primitivi e per dei tassi di criminalità dalle due alle tre volte superiori rispetto alla media dei dipartimenti continentali allora le forme di conflittualità materiali che sono conflittualità intrafamiliari e intracomunitarie appaiono regolate appunto da questo che abbiamo evocato prima un codice un codice tradizionale il sistema della vendetta di sangue strutturato appunto su forti legami di parentele di parentele e su una radicata ideologia dell'onore che in realtà appunto piuttosto comune ad altri anche siti mediterranei come la sardegna l'albania la vendetta come viene definita conservando l'italiano in un ulteriore segno di alterità la vendetta appare da parigi una catena di delitti barbari omicidi generati dal carattere collerico irrazionale orgoglioso attribuito tipicamente alla razza mediterranea tutte virgolette ovviamente e specialmente a questi esotici insulari pastori e contadini quindi appaiono non come dire in una extra socialità rispetto al crimine ma appaiono come fiancheggiatori dei bandi donna questi curiosi abitanti dei boschi che sono caratterizzati da dal cappello a falde larghe abiti di velluto scuro c'è tutto in iconografia il fucile la barba portata qualche momento no figuriamoci non dovevo dirlo effettivamente è un classico con i fogli e l'altro simbolo è la barba ma no la barba lunghissima immaginatevelo comunque uno è sulla locandina e ne parleremo Antoine Bellacoscia detto Bellacoscia ma vedremo al tema se c'è tempo la barba è il simbolo dello status di vendicatori cioè l'idea che nel momento in cui un uomo sia in vendetta smette di tagliarsi la barba e quindi fino a che non ha ottenuto la vendetta allora questo tema chiaramente pone il problema della cosa devono fare gli amministratori francesi siamo appunto nei primi anni della restaurazione l'intento è ridurre questo grado di alterità degli isolani sradicando il costume della vendetta impiantando un sistema di giustizia formale codificato burocratizzato in una parola di tembero loro cidio allora qui c'è ancora ovviamente l'ombra di Napoleone che incombe sulla percezione della corsica in Europa e però concretamente sono circa 400 i banditi acquattati nella boscaglia o magari più comodamente un sistema di protezioni comunque alla macchia diciamo così e quindi c'è un tentativo di ricorrere a misure militari associando per esempio alla gendarmeria regolare un corpo volontario di nativi dell'isola i voltiger dal 22 al 50 che appunto si arruolano proprio per spesso regolare vecchi conti con il fuori legge questo è un versante l'altro versante che però mentre tutto questo accade mentre si tentano strategie tutto questo coincide con lo svilupparsi di nuove forme del viaggio forme in cui con cui i meccanismi del grand tour aristocratico vengono finalmente vengono messi in discussione e come dire la corsica è sublime esteticamente per il suo profilo montuoso che è pittoresca per i costumi arcaici della popolazione che in definitiva romantica per il carattere selvaggio dei banditi ecco la corsica entra di buon diritto nel circuito del turismo chiamiamolo sentimentale ma 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 il ma è che questo mito per comprenderlo questo mito così schematicamente positivo ecco della corsica incorrotta e primitiva è alla base della curiosità dei viaggiatori romantici ma in realtà risale all'epoca illuminista cioè l'attitudine fiera e indipendente attribuita agli isolani trova ovviamente radici il grande fatto che ha caratterizzato la la corsica cioè la rivoluzione la rivoluzione corsa porterete anni 30 del 700 contro la dominazione genovese che culmina questa rivoluzione nel 55 con la conquista dell'indipendenza e la proclamazione della repubblica sotto la guida carismatica di questa grande figura del come dire del settecento politico cioè pasquale paoli babbudia patria come viene definito questa vicenda aveva attratto l'attenzione dei principali pensatori illuministi complice anche un appassionato elogio che russo nient'altro che lui aveva vedato insomma nel contratto sociale dove nel contrat social viene identificata la corsica come l'unico luogo europeo dove cito la semplicità della natura è unita ai bisogni della società e russo aveva esaltato il valore coraggio e la costanza con cui questo popolo punto coraggioso aveva saputo scoprire e difendere la propria libertà insomma l'isola all'altezza dell'età romantica è già un simbolo ed è un simbolo in realtà di una libertà razionalista russoiana anche perché aveva adottato la prima costituzione di ispirazione illuminista del mondo occidentale cioè basata quindi su principi di egualitarismo collettivismo ci sono altri dettagli su questa cosa ma il punto mi sembra che sia già rilevato cioè l'immagine di una popolazione libera e frugale che è l'ideale per la sperimentazione delle virtù repubblicane la sconfitta come sempre succede poi appunto il recupero del sublime del sublime estetico la sconfitta come dire sancisce il mito perché la corsica poi come dire viene ceduta tutti alla francia nel 1769 e quindi il mito di una gloriosa sconfitta viene alimentato e quindi si delinea questo questo elemento allora in questo frangente che possiamo definire di costruzione dell'immaginario romantico relativo a questo tema il bandito d'onore cosa ne è del bandito d'onore rappresenta sostanzialmente l'incarnazione dello spirito corso è un momento di costruzione delle come dire delle idee nazionali ovviamente e regionali è un momento di scoperta o riscoperta dei profili folcloristici dei costumi folclorici e lo spirito corso viene incarnato dai suoi banditi sono altri casi in cui avviene tutto questo caso dei briganti italiani è stato richiamato quello dei tags nelle indie e britanni che potrebbe essere evocato ma solo per dire che appunto non siamo in un elemento di specificità totale per così dire ma è un processo condiviso a livello globale viene da dire e che in corsica trova una trova allora una sua specificità questa vicenda va connessa a un punto di origine di origine brutta parola punto di passaggio è riconducibile al schiller ai masnadieri schiller 1782 questo dramma di cui protagonista carl moore ricorderete questo nobile tedesco che presta fede solo al proprio statuto personale e vi viola la legge per amor di giustizia e quindi si fa masnadiere si fa bandito in questo senso come pulsione alla ribellione e all'autodeterminazione individuale siamo ancora profondamente nel filosofico allora il masnadiere è il prototipo del delinquente romantico del sublime delinquente romantico che discende dal lucifero del paradise lost ma che trova appunto poi una sua concretizzazione e una sua fortuna larga nella sensibilità romante questo punto possiamo evocare ovviamente rapidamente incrocia impatta subito con il nostro tema cioè quello dei banditi corsi perché già negli anni 90 del settecento quando il discorso letterario intorno ai briganti si fa ridondante c'è già un primo incrocio bisogna prendere in mano in questo caso oltre ai romanzi gotici inglesi e a quelli francesi un esemplare di roiber roman di romanzo dei masnadieri che forse il romanzo più di maggior successo di questo questo filone che è il rinaldo rinaldini di christian august vulpius 1798 che è in una formula così un po sbrigativa quando noi ritorniamo su questi aspetti è un successo mediatico a tutto tondo quindi travalica il romanzo ma entra in circuiti molto più ampi allora nel rinaldo rinaldini è un per capirci un calco del precedente scilleriano ma in chiave diciamo virgolette virgolette popolare narrativa di consumo siamo più precisi mi piace questa parola rinaldo che è un punto il tipo del brigante sublime scopriamo che è un brigante italiano aderisce qui c'è il messaggio politico in realtà di questo romanzo ma che richiama russo ovviamente aderisce a una misteriosa cospirazione ordita per liberare chi la costica dall'oppressione francese siamo in un contesto in cui come dire nel 98 ombra di buona parte già presente allora dice no il rumore delle catene che si spezzano liberando la tua patria dalla schiavitù acquiterà la mia coscienza eccetera eccetera la rinata libertà della corsica fa cominciare per noi un nuovo giorno di vita quindi il valore simbolico di questa di questo elemento di questo richiamo a un luogo che poi è insulare come insulare sarà il luogo dove morirà rinaldo rinaldini nel sequel lottando per l'indipendenza di cipro quindi ancora noi simbolico dell'isola che come dire è uno spazio anche dell'immaginario no e l'ulteriore tastello di questa costruzione che voglio richiamare rapidamente è walter scott walter scott overley ivano dove si porta a compimento un po questo elemento di una condizione di assoluta libertà premoderna incarnabile non necessariamente ma incarnabile dai banditi su questa onda lunga viene impiantata appunto l'abbiamo impiantato l'approdo dei primi viaggiatori in questa corsica incognita geograficamente e etnologicamente diremmo oggi vi risparmio le molte citazioni perché il dovere è quello del rispetto dei tempi però però il richiamo ai rob roy al corsican rob roy come viene definito è possiamo esemplificarlo in molti modi ne ho fatto uno soltanto il bandito d'onore in questo caso quindi viene definito qualcosa che non vuol dire brigante cito ma contumace inseguito dalla giustizia sostanzialmente quindi c'è una distinzione la descrizione quindi è quella di un di uomini che scelgono il ritorno alla vita selvaggia e preferiscono la vita errante e armata nel mezzo della macchia delle rocce all'asilo più sicuro delle dimore con la pubblicazione poi siamo all'altezza degli anni 40 dell'ottocento della colomba della colomba di prosper merimè si diffonde a questo punto al massimo livello quest'idea dello sventurato isolano prono se vogliamo suo malgrado al sistema della vendetta quasi destinato alla vendetta la colomba viene pubblicata sulla revue del mondo quindi ha una circolazione colta e non colta perché oltre travalica presso questo questa portata ma appunto fa parte di un ambito in cui il romanzesco e il discorso scientifico come dire stanno insieme altri titoli matteo falcone della dello stesso merimè la vendetta di balzac insomma la vendetta corsa è diventa entrata nel canone letterario europeo ma quello per quello che ci interessa francese di umano i fratelli corsi con son di terrai le bandi insomma bandito d'onore è diventato un mito nazionale ed eroe romanzesco come si definisce alla merimè qual è il fuorileggio alla merimè è questa cosa qui nobile d'animo appassionato ma non ladro già mai questa compassione perché le sue azioni non sono dire dettate da una malvagità criminale ma dal rigido rispetto di ataviche usanze del paese in un destino e nell'ottabile dato sia la macchia vuol dire il bandito il buon bandito non rapisce non ruba se è assalito soltanto se è assalito ferisce uccide perché la spietatezza è il suo uno dei suoi caratteri per il resto basti questo riferimento a a flaubert che decide di andare in corsica portandosi dietro non il mante bran ma la colomba leggendola e cercando come facevano molti viaggiatori questi eroi che riparano i torti insomma le citazioni ne posso risparmiare perché sono conseguenti la gioiosa vita dei boschi questo elemento quello mi interessava rilevare in questo primo punto è questa intersezione questa convergenza tra narrativa di viaggio letteratura romanzesca e saperi scientifici che ho solo accennato ma su cui magari poi torniamo legittimata poi dalle guide a stampa da tutta una serie di repertori ora veniamo al passaggio successivo allora perfetto alla metà degli anni 40 quindi abbiamo capito che il tipo del bandito corso è già parte integrante di una galleria che fa parte del discorso sociale sul crimine non è escluso la specificità è interna alla tassonomia criminale e quindi al luogo topico non più la macchia ma dei prigioni se noi spogliamo splendori e miserie delle cortigiane di balzac scopriamo che di questo personaggio d'or calvi che insomma in condutta con il grande titanico votren insomma nelle carceri avviene un ulteriore incontro tra questa insularità altra e i bassi fondi bassi fondi che la letteratura francese non solo la letteratura sta scoprendo in quegli anni sulla base della lezione di vidoc e poi dei grandi narratori del realismo del romanzo realista francese da eugène su a fino ovviamente a victorio ed è qui in questo contesto in cui puoi dire la tensione a tassonomizzare gli elementi del crimine globale il forzato corso occupa il suo posto peculiare qual è il suo posto peculiare prendiamo appunto un sapere scientifico il medico l'overni uno uno che studiava ecco i galeotti rinchiusi a tolone che poi verrà utilizzato per un famoso libro sulle carceri francesi riconosce appunto nei suoi studi craniologici già appunto a metà del degli anni 40 dell'ottocento il fatto che i corsi i forzati corsi sono vittime di un preconcetto ma così la vendetta una giustizia selvaggia allora è inutile cercare nel cranio di un bandito d'onore insomma i marchi del criminale perché non è vero che come dire la è il positivismo a inventare ovviamente questo elemento una grossa un grosso dialogo con l'immaginario romantico e con le pratiche di apoca romanti le teste corse sono rimarchevoli perché in realtà societando portano i segni craniologici rivelatori di cosa della indipendenza e della libertà allora queste tesi che come dire oggi definiremmo ovviamente proto-parascientifiche ma che io non uso questa parola perché sono tesi scientifiche su quel momento queste tesi scientifiche correggono paradossalmente in un certo senso in negativo e vanno quindi al cuore della seconda parte del discorso correggono quegli stereotipi che abbiamo detto un po' bonari sul cuciti indosso ai paesani corsi cioè il fondo di questo discorso è un po' quello di Maltebron dell'inizio cioè l'amministrazione francese deve farsi carico di incivilire questo popolo definito apertamente enfant, bambino, un popolo bambino poiché i corsi non chiedono che ricevere la nostra civilizzazione allora non dobbiamo mandare baionette e gendarmi a questo punto ma dobbiamo mandare legioni di quei missionari che vanno agli antipodi e che invece, come dire, lottano contro la barbarie e il paganesimo lontano quando invece, come dire, per la nazione sarebbe forse più fruttuoso stabilirli presso i rudi montagnardi corsi in questa isola pomposamente definita provincia di Francia vedete bene che sta cambiando, no? il clima, non so come dire rendere la Corsica francese di nome di fatto è il tema che affianca e che a un certo punto tra gli anni 60 e 70 dell'Ottocento diventa il discorso dominante e che quindi offusca l'immaginazione romantica la versione più idilliaca anche qui vi evito le molte citazioni ma il cuore del discorso è questo una popolazione troppo indolente per lavorare senza legge, faziosa che conduce la vita vagabonda e dove soltanto l'esercizio di un potere dispotico finalmente possa mettere fine al regno del terrore regno del terrore identificato con i banditi questo mutamento culturale va osservato con tenendo presente la svolta repressiva inaugurata sotto Napoleone III ormai col secondo impero e simboleggiata dalla misura dell'interdizione del porto d'armi che viene resa effettiva tra il 53 e il 68 tra lo scandalo dei deputati isolani e che aveva partorito una serie di operazioni militari su larga scala su cui non possiamo indugiare però l'elemento è questo l'identificazione di quello che uno dei turisti così che richiamo identifica come l'ultimo dei banditi e il richiamo all'ultimo dei mohicani non è come dire fugace o implicito ma è molto esplicito allora questa rimodulazione quindi dallo stereotipo bonario ha una serie di precise nozioni di natura anche qui usiamo le virgolette coloniale per capirci di natura insomma normalizzatrice che si connettono al fatto che il bandito è ormai diventato questa cosa qui e di contro i corsi nel loro insieme assumono appunto questa fisionomia a parte profondamente originale poco rassicurante che li rende associabili non al tipo europeo i tipi europei ma al tipo anche qui le virgolette uso ovviamente magrebino allora si osservateli si dice cominciano queste descrizioni un po' da deserto dei tartari o dei corsi questo è il sole che picchia l'aspre montagne e vedrete appunto che proverete una come dire sfiducia non viene un'altra parola una sfiducia istintiva e profonda e vi ripeterete tra voi incamminando accelerando il passo selvaggi insulari questo tema della vendetta quindi viene ricalibrato ormai di conseguenza assumendo la forma di un rigurgito barbarico il bandito l'uomo in vendetta non è più il più onesto uomo del paese come l'aveva definito Flaubert ma come dire la la tigre la tigre nelle giungle del Gange che viene quindi descritto con queste forme no la pace così questo elemento e vengo all'ultimo tassello del discorso queste immagini di un popolo degenerato fa parte in realtà di una lotta politica perché come dire la Corsica è un avamposto bonapartista lo rimane e nella terza repubblica come dire tutto questo ha un peso come potete immaginare il peso è quello delle lotte elettorali cioè il tema dei banditi si connette in realtà al peso che le fazioni familiari hanno nella lotta politica c'è questa questo reportage ormai nel 1887 che descrive appunto lo spirito di clan di questi di queste figure e quindi la descrizione di agenti di scambio procacciatori di clientele al servizio di questo o quell'altro potentato politico e in cui appunto il tema ritorna a essere quello della civilizzazione della distanza in chiave politica anti bonapartista allora l'ultimo tassello appunto di questo discorso è quello che riguarda la folclorizzazione di tutto questo che anche qui io vi propongo così come chiave di lettura di osservarla in parallelo alla vicenda politica allora il governo francese dopo questo reportage del giornalista burdo che ho appena citato si trova costretto a come dire allo scandalo ad assumere provvedimenti di urgenza ed è il momento in cui più come dire la lotta il banditismo si fa serrata con strumenti di quote premiali liberazioni insomma quello che potete immaginare come misure di polizia e di prevenzione c'è in generale la sensazione che finalmente il banditismo sia al tramonto debellato al pari di quella tabico costume della vendetta di sangue questa apparente pacificazione dell'isola perché in realtà ovviamente il quadro più sfrangiato ha appunto rappresenta in realtà un successo significativo per il progetto di consolidamento del regime repubblicano moderato in Corsica l'esponente più autorevole di tutto questo è il deputato Emmanuel Aren figura che come dire nomina la vita politica isolana ed è poi deputato a Parigi e che incarnava come dire in una scintillante carriera politica l'ala localista e intransigente della Corsica Aren oltre a essere deputato non vi risparmio nella sua biografia politica poi magari ci torniamo conquista la carica di consigliere generale della Corsica che la esercita e la esercita tra il 1880 e il 1908 sono 28 anni e come dire centralizza in un sistema piramidale padronale basato sullo scambio clientelare e la distribuzione di cariche pubbliche centralizza il potere locale Ure Emanuele viene definito quindi nel sistema prefettizio che come dire garantisce poi all'amministrazione regionale una sorta di potere smisurato ma quello che mi interessava rilevare è che questo consolidamento politico e vengo veramente alla conclusione anche teatrale come vedrete va connesso all'ultimo a un ritorno o meglio a un nuovo momento che è quello del bandito decorativo chiamiamolo così la folclorizzazione appunto cioè il bandito dopo essere stato appunto l'incarnazione del sublime romantico poi della selvaggia faruscità selvaticcheria dell'isola diventa una figura ufficiale della bozzettistica insulare mi spiego l'attività politica di Aren è all'origine di un'operazione che ha del geniale ovviamente cioè la trasformazione del bandito d'onore in patrimonio folcloristico e che si connette allo sforzo di presentare alla Francia alla nazione un'immagine positiva della Corsica in un momento in cui badiamo la Corsica entra nei nuovi ulteriori ulteriormente nuovi circuiti turistici che sono quelli del passaggio dalla montagna al mare al volgere del secolo stiamo parlando negli ultimi anni dell'ottocento cioè la Corsica come elemento delle villeggiature mediterranee prima di tutto salutari e poi ci sarà ovviamente l'esplosione del turismo successiva del turismo da spiattro in un altro contesto ma l'attrazione dalle montagne al mare fa sì che si ingenerino quelli che possiamo definire dei piani turistici in questo passaggio l'attività di Henri Boland che è il presidente della sezione corsa del club alpino di Francia è decisiva e Boland che è un amico di Arendt ovviamente nelle vesti di redattore delle guide a stampa Joan cioè le Gidble quelle più diffuse in Francia deve dimostrare che ormai dire che viaggiare in Corsica non ha pericoli è come dire un luogo comune cioè è banale dirlo bisogna dimostrare che la Corsica non è più quel luogo appunto dominato dalla vendetta dal pericolo perché poi è ovvio che il tema di fondo era viaggiare in Corsica ti espone al rischio del crimine no oggi la Corsica è un'altra cosa l'immagine del bandito diventa quindi una pittoresca reminescenza dell'arcaismo insulare attraverso cui i turisti ormai possono leggere il fondo libero verace orgoglioso dello spirito corso questa che possiamo definire l'ultima pagina non vi preoccupate la patrimonializzazione del fuorilegge si verifica intorno alla figura che appunto abbiamo messo in locandina Antoine Bonelli Bonelli detto bella coscia perché il padre era detto bella coscia perché aveva molti amanti eccetera eccetera non entriamo in vicende scabrosse molti una famiglia particolare ma che viene riconosciuto come il veterano del banditismo avete visto che è molto anziano perché perché è un sopravvissuto e letteralmente un geronimo dei suoi tempi la viene considerato qui anche vi risparmio le citazioni ma ce l'ho il vero bandito corso crudele con i nemici umano con i poveri è questo curioso ritorno che però ha un valore simbolico molto diverso e costui è l'ultimo superstite in realtà di un potentissimo clan che aveva dominato la vita economica e politica nel circondario di Bocognano e che era stato alla macchia per 40 anni ora non siamo così ingenui non so come dire stare non sta alla macchia per 40 anni ma diventa un come dire un gestore del potere territoriale chiamiamo così un mediatore in cui appunto il clan dei Bonelli ha il suo peso ufficialmente alla macchia ma condannati in contumacia i vari Bellacoscia e soprattutto Antoine abitano in realtà la valle della Pentica e oggi potete trovare ovviamente nelle guide turistiche la presunta caverna i presunti luoghi del bandito Bellacoscia in cui in realtà appunto le fitte relazioni con l'alto notabilato di Rajaccio e i consiglieri dipartimentali è la chiave Aren lo stesso Aren come dire era un visitatore di Bonelli e come dire il prefetto Dosò altri continentaggiornalisti insomma avete capito il clima che che lo circondava ormai anziano il fuorilegge si era arreso alla gendarmeria dopo un'ovvia anche qui trattativa nel 1892 quindi molto anziano quando la resa viene come dire garantita dal fatto che ci sarà la gratte cioè Aren media e ottiene la grazia presidenziale in cambio dell'area del Stato di Bellacoscia la vicenda è cristallina e l'utilizzo che se ne fa è spettacolare perché c'è questa messa in scena fotografica in cui che circola su tutti i giornali potete immaginare siamo ormai nella stampa di massa della resa di Bonelli dipinta come un grande successo dell'amministrazione del governo e che ovviamente è frutto di questo accordo è lì che Bonelli si trasforma appunto in Geronimo in Buffalo Bill chiamiamolo come ci pare una celebrità europea perché è una celebrità europea e come dire il tramonto del banditismo acquisisce una concretezza simbolica perdonate il paradosso finito con appunto l'idea che ormai la Corsica ha finito con la vendetta l'isola selvaggia insomma si sta trasformando nella famosa il de Botte una terra promessa dove natura e uomo antico e moderno tradizione e progresso coesistono che poi un po' l'immagine come dire che c'è un po' familiare il turista metropolitano può immergersi al sicuro in atmosfere romantiche degne d'altri tempi i banditi possono tornare quello che come dire erano stati dipinti da Merimè ma in maniera adesso edulcorata povera gente vittime di un preconcetto nazionale che meritano empatia sto citando ovviamente i risconti di viaggiatori i corsi sono quella cosa feroce selvaggia che abbiamo richiamato in quel momento centrale no mille volte no a questa odiosa calunnia sono i più cortesi i più ospitabili popoli che possiamo immaginare allora il rifugio viene indicato ormai come un luogo di interesse nelle guide di viaggio one of the places to be done negli itinerari della Romantic Corsica le fonti come dire ci parlano da sole e non serve indugiare la scenetta finale che vi avevo promesso spettacolare è questa cioè il fatto che Bonelli dopo la grazia presidenziale torna a casa torna al villaggio dove viene passa le giornate sostanzialmente seduto sulla soglia di casa con la pipa in bocca vestito con abiti tradizionali ricevendo curiosi raccontando aneddoti posando le sue foto più famose col fucile in mano per le cartoline postabili quindi avete questo uomo ormai anziano in abiti come dire da altri tempi e allora l'apogeo 1898 il ministro della marina Edoardo de Lacroix visita ufficialmente la Corsica ottobre nel 98 il treno fa tappa non lontano da Bocognano di Zavone scusate dove Lacroix il ministro della marina viene accolto da chi da Emanuele Aren dei giornalisti eccetera eccetera e dal bandito di circostanza da un trappello di una ventina di banditi di circostanza vengono definiti capitanati dal vecchio Bella Goscia in costume da bandito pronto a salutare con una brusca fucilata sua eccellenza la morte nel 1907 porta via quindi il Bella Goscia il dernier survivant l'ultimo sopravvissuto di una razza ormai estinta allora a quel punto i commentatori continentali per esempio sul Petit Parisieno possono finalmente annunciare la scomparsa progressiva scomparsa di quei sanguinari costumi isolani che avevano caratterizzato la Corsica l'avvenuto ingresso della Corsica nella modernità i pugnali che si vendono dagli stranieri con incisi le parole vendette Corsica diventano soprattutto un articolo di curiosità grazie Giulio allora io se posso guardo il coordinatore l'organizzatore ecco gli appunti sono densissimi prima di passare la parola a chi vuole intervenire chi è presente in sala intervenire rivolgendo una domanda agli autori oppure facendo una propria riflessione ovviamente mi rivolgo anche al pubblico da remoto che è molto nutrito però se posso visto gli appunti che ho preso ecco come vi avevo anticipato immaginavo che avremmo avuto anche in quest'ultima penultima scusami penultimo incontro un incontro molto interessante e ovviamente di qualità e perché a mio avviso abbiamo avuto modo di ascoltare due letture affatto scontate originali e molto mature che si sono compenetrate a vicenda come vi avevo anticipato il filo conduttore c'è c'è un unico filo conduttore che è quello che guarda alla rappresentazione e alla costruzione dell'immagine più che altro alla costruzione di un immaginario e dicevo da una parte c'è appunto la lettura cartografica la mappa la carta che come più volte ha sottolineato Arturo non dobbiamo mai pensare di trovarci quando guardiamo una carta una carta storica di trovarci di fronte a una finestra trasparente queste erano le parole utilizzate da Woodward in history of cartography ma abbiamo sempre a che fare innanzitutto io lo ripeto sempre con strumenti non ci dimentichiamo che la carta è uno strumento che non vive da solo e Arturo ce l'ha ricordato strumenti che sono costruiti costruiti retoricamente proprio per convincere il pubblico del messaggio che il cartografo il costruttore di questa immagine vuole comunicare e noi sappiamo tutto quello che c'è dietro il cartografo e lo stesso ecco dall'altra parte abbiamo ascoltato il discorso la lettura che ci ha offerto Giulio che è proprio sulla costruzione di questa tipizzazione il tipo del bandito corso il brigante poi ci ha spiegato che viene distinto il bandito dal brigante comunque che si nutre come dicevamo di uno stereotipo collettivo che corrisponde a mio avviso a un costrutto tu l'hai sottolineato un costrutto sociale ma anche politico infatti hai sempre alternato questa lettura su riportato diari di viaggio racconti eccetera narrativa e poi dall'altra parte quello che era la dinamica politica dell'epoca quindi qui ci sta bene un'espressione usata da Le Goff Jacques Le Goff quando parlava dell'immaginario medievale ma in realtà lui lo riferiva a tutto l'escurso storico quando diceva ogni società è proprio di ogni società ancorarsi saldamente a delle immagini immagini soprattutto mentali che sono inserite nel lungo corso della storia Le Goff diceva nel percorso della storia ed espresse mediante l'abbiamo visto parole idee narrativa di diverso tipo attraverso rappresentazioni di diverso tipo come per esempio quelle cartografiche quindi sono effettivamente vengono prese in prestito tramandate circolano proprio nel mondo diacronico delle realtà umane quindi parliamo di immaginario l'immaginario che nutre e che fa agire l'uomo le società perché è un fenomeno collettivo l'abbiamo ascoltato è un fenomeno sociale è un fenomeno eminentemente storico e qui ritorno alle Goff una storia senza l'immagine è una storia diceva mutilata quasi disincarnata dunque Arturo soprattutto ovviamente ci ha messo di fronte a questa carrellata nutrita di rappresentazioni insulari rappresentazioni mi è piaciuto il fatto che tu non hai voluto dare poi un escursus diacronico perché in realtà si sono avvicendate diversi tipi di rappresentazioni cartografiche e quindi questo significa carte rispondenti ai parametri della misura al discorso euclideo la geometrizzazione dello spazio ma allo stesso tempo abbiamo visto anche carte che non rispondono a quel tipo di messaggio ma del resto lo sappiamo come diversi tipi di rappresentazioni possono essere considerate appunto cartografie cartografie ci lo diceva anche Roberto al mangiare non ci sono prodotti di serie A e prodotti di serie B ma dobbiamo appunto considerare questo importante strumento soprattutto per il messaggio evocativo di cui ciascuna rappresentazione si ammanta e infatti queste queste carte che ci ha mostrato Arturo sono ci hanno offerto a mio avviso una varietà di linguaggi di modalità di rappresentazioni attraverso cui è appunto possibile mettere in evidenza soprattutto le intenzioni i sistemi culturali che albergano dietro ciascuna rappresentazione ecco non ci fermiamo di fronte all'immagine topografica perché non è quello che Arturo ci ha restituito ci hai detto molto di più a partire dall'interpretazione che mi raccomando un'interpretazione metodologicamente deve essere sì filologica ma anche semiotica e questo poi ovviamente non può avvenire se non ci si rapporta alla documentazione anche di tipo testuale quindi mai fare l'errore a mio avviso di fare quello che hanno fatto molti archivisti e bibliotecari che hanno strappato la carta dal documento di appartenenza perché si finisce veramente per rompere lo schema logico di interpretazione e quindi dicevo la cartografia ecco da qui si è proprio visto come la cartografia si sostanzia quale strumento per comprendere il senso socio-culturale denso di implicazioni politiche di implicazioni ideologiche però allo stesso tempo ci ha fatto sempre e ci ha voluto sottolineare attraverso questa carrellata differente di carte che rispondono e non rispondono ai parametri della misura secondo me anche che è un altro elemento importante che ci riporta sempre all'universo culturale e sociale che è quello della convergenza e dell'interrelazione anche di tecniche diverse perché le tecniche diverse poi si stratificano nel tempo e quindi ci danno la possibilità di delineare un processo un processo di costruzione dell'immagine in molte delle tue rappresentazioni ecco mi venivano in mente per esempio a parte quelle più antiche nel senso cinquecentesche Bordone Camocio oppure mi sono venute in mente isole città e fortezze città e porti principali d'Europa siamo alla fine del seicento quindi proprio fine del seicento con Coronelli soprattutto quando hai sottolineato proprio questa attenzione all'elemento difensivo all'elemento di costa a tutti gli elementi antropici che vengono su cui il cartografo getta luce quindi a mio avviso si è trattato di una straordinaria ripeto carrellata cartografica che ha messo in evidenza proprio questo abbinamento complesso che Arturo è riuscito invece a renderlo semplice per proprio la sua capacità nel trasmettere te lo devo dire le cose quello che tu studi perché in realtà si tratta come sappiamo di un abbinamento molto complesso di codici linguistici testo figura che rimanda ad altro sempre ad altro e che ci restituisce come ha fatto appunto Arturo ci restituisce la narrazione di un paesaggio di paesaggi che si trasformano nel corso del tempo nel corso delle diverse epoche storiche e che lascia traccia in questa documentazione a volte abbiamo a che fare con dei paesaggi che sono anche definiti le hai definito anche tu effimeri per esempio mi sono ritrovata ad analizzare insieme a Pierluigi De Felice una risaglia settecentesca che era presente su della cartografia custodita presso l'archivio storico dei monaci Benedetti di Monte Cassino e quello che era proprio un paesaggio effimero che sembra apparentemente scomparso che in realtà non lo è nella storia nella memoria storica e che lascia traccia proprio in questa ricchissima documentazione che è appunto la cartografia quindi una documentazione che effettivamente si rivela uno strumento utile per far emergere come in un panzesto citavi proprio questa parola la stratificazione territoriale gli usi dei suoli i modelli urbani utilizzati messi in atto la toponomastica di questo non ci ha voluto parlare ma adesso ce ne parlerà che questo insieme che come un fossile riporta alla luce proprio il significato profondo di un determinato contesto territoriale dall'altra parte l'immagine e l'immaginario che ci è stato sapientemente brillantemente Giulio veramente raccontato da Giulio attraverso questo sistema di rappresentazioni un sistema dinamico di rappresentazioni nutrito di narrazioni di stereotipi di pratiche di pratiche di viaggio perché ci è parlato del viaggio e della narrativa legata al viaggio e quindi tutto un immaginario del banditismo posso dire del brigantaggio del banditismo del brigantaggio che diciamo si sviluppa proprio nello scenario dicevi del romanticismo quindi fine settecento e lungo il corso dell'ottocento in questo periodo in cui appunto si crea questa potremmo dire questa tipizzazione del bandito del brigantaggio del bandito corso in questo caso che a mio avviso ho capito compreso dalle parole di giulio che è una categoria sicuramente sociale ma è anche che ha molte implicazioni politiche politiche e ideologiche e quindi è una diciamo che ecco quello che emerge che è una figura che corrisponde ecco questa è una domanda che ti pongo comunque quello che ho capito soprattutto all'immaginario è una figura che corrisponde più che altro all'immaginario che non ha un qualcosa di definito un'identità definita una volta per tutte però è pur vero perché ovviamente si lega al periodo storico che è una realtà cioè il brigante scusami il bandito esiste cioè una realtà storica che esiste e che è esistita però intorno alla quale poi abbiamo visto attraverso queste figure di cui ci hai parlato si è creata si è creato questo immaginario si è costruito questo immaginario questa tipizzazione che ci porta dal bandito cattivo fino ad arrivare al bandito edulcorato e quindi buono e per cui diventa anche sicuro viaggiare viaggiare in Corsica e un altro aspetto a mio avviso che ci ha messo in evidenza è proprio le fonti tu non hai insistito ma ce le hai raccontate no metodologicamente quindi una credo che per analizzare descrivere una figura di questo tipo soprattutto farci capire che è un costrutto sociale oltre che culturale e politico sia necessario avvalersi di un ventaglio variegato di fonti quindi la letteratura di viaggio immagino pure il melodramma i drammi e poi ecco magari una fonte su cui mi aspettavo che mi avresti raccontato di più stando in una sede di geografi mi viene in mente perché tu hai parlato della diciamo la costruzione dell'immagine anche iconografica quindi giornali giornali in cui è stato tipizzato immagino il brigante o il bandito per cui ecco diciamo questo aspetto di questo fenomeno è molto importante soprattutto a partire anche da tutte le fonti che vengono utilizzate e quindi ci fa capire l'immenso lavoro che è stato fatto per raccontarci narrarci questa figura quindi soprattutto ecco la cosa interessante secondo me no soprattutto un ulteriore elemento interessante che si evince dal tuo racconto è proprio questa alternanza di dispositivi narrativi cioè la capacità di interpretare diversi strumenti ecco di andare a sondare diversi strumenti io a questo punto mi taccio perché chiedo al pubblico io ho delle domande è chiaro che per Arturo Arturo siamo più più vicini nei temi e quindi è più diciamo è meno semplice fare domande una delle domande che io ti pongo però ecco rimando al pubblico è quella relativa alla toponomastica se più che una domanda visto l'importanza come sappiamo della toponomastica nell'ambito della cartografia storica e quindi quello che ci racconta la toponomastica è un elemento che in un geografi dovremmo sondare non tutti ovviamente siamo in grado di farlo però se ci dici qualcosa in più relativamente alla toponomastica e all'isola di Bonza e invece avevo mentre parlava oltre a prendere appunti io ho scritto delle domande che avrei posto a Giulio e che pongo a Giulio allora in tutti questi dispositivi narrativi se c'è al di là del bandito io mi riferisco al brigante in generale se posso farlo se c'è un dispositivo che aiuta più di qualche altro a definire questa figura e poi tu hai parlato proprio della non hai usato il termine morte ma dell'esaurimento di questa della figura del bandito in questo caso è il bandito corso però ecco se c'è un passaggio fondamentale come si articola storicamente a livello proprio di tappe storiche l'esaurimento di questa di questa figura e se sono impropri a parlare di questo e l'ultima terza domanda visto che abbiamo la premessa era rappresentazione dall'interno e rappresentazione dall'esterno ma esistono delle rappresentazioni proposte dal cioè autorappresentazioni proposte dal brigante sostanzialmente mi taccio e chiedo a a a chi è presente o chi è da casa insomma da da remoto se se ci sono domande oppure ecco riflessioni da proporre ma mentre ci pensa qualcuno ci pensa dico veramente due cose sulla domanda intanto grazie mille Luisa per non aver fatto semplicemente da coordinatrice ma da veramente da discussant e comunicatrice a conoscenza che ti sei impetato sì sì no assolutamente sia per quanto riguarda gli spunti che ho proposto io sia anche per quelli veramente molto interessanti Giulio poi farò un commento sul tuo perché veramente davvero interessante e grazie intanto dal punto di vista dell'organizzatore grazie per quanto riguarda la toponomastica rapidamente in questa appunto carrellata che diceva anche Luisa è emerso come il nome del luogo sia importante noi spesso noi geografi ma in generale noi studiosi sottovalutiamo la potenza del nome del luogo sia come forma di appropriazione e sappiamo che fa parte appunto nel processo di territorializzazione della prima fase di controllo del territorio quindi il controllo simbolico del territorio ma anche come elemento di conflitto perché un nome non è necessariamente accettato da tutti e quindi il riconoscimento di un luogo e della sua denominazione non è sempre un atto pacifico se vogliamo sempre in una narrazione eterocentrata è frequente nel settecento ma anche nell'ottocento la denominazione di luoghi di nuova esplorazione anche qui nuova esplorazione da parte delle società europee comunque di luoghi potenzialmente già abitati che vengono ridenominati come atto anche di dominazione vorrei dire nel vasto processo anche di espansione coloniale promosso soprattutto da Inghilterra e Francia ma non solo anche da altre potenze denominare un luogo di nuova esplorazione di nuova di nuovo conoscimento che non era presente nelle carte mettiamola così nelle carte europee voleva dire essere avere un diritto di proprietà su quelle terre e quindi è frequente anche come molti territori molte isole dell'oceano pacifico in parte atlantico anche indiano cambino denominazione tra nomi di origine inglese e nomi di origine francese un atto che a volte avviene sulla carta cioè non perché c'è un altro esploratore che ad esempio un francese che segue un inglese ma è un atto che avviene sulla carta a taulino a Parigi o a Londra direttamente su questo è interessante faccio un esempio rapidissimo la denominazione dei luoghi della costa antartica a sud dell'Australia e dell'India che troviamo in carte di produzione francese denominate in francese e in carte di produzione americana con nomi in inglese che non sono la traduzione del nome francese non è Sant'Andrea in francese e in inglese non sono nomi completamente differenti proprio come atto di di possesso di dominazione ovviamente poi ci sono tutte le varie forme di dedica al soprano al nome della nave al capitano dell'equipaggio alla moglie che ha gentilmente concesso all'esploratore di partire e lasciarla sola ovviamente del tutto dispiaciuta per diversi mesi se non anni e quindi diciamo queste sono abbastanza ricorrenti in generale in una lettura di dettaglio il ecco questo può essere interessante la denominazione dell'isola corrisponde effettivamente al momento di controllo simbolico dell'isola io mi rendo conto che c'è ritengo che possa essere di mia pertinenza la denomino con il nome che dico io e questo può essere un atto anche fatto a distanza vedo da lontano un'isola e la denomino anche come forma di orientamento se vogliamo quando invece c'è un controllo materiale del territorio e quindi inizia a esserci una costruzione di fatto del territorio e quindi c'è necessariamente la presenza di comunità esogene che diventano endogene o che si insediano comunque di comunità stanziali ecco che vengono denominati i luoghi dell'isola quindi c'è una toponomastica c'è una denominazione del luogo dell'isola non dell'isola ma dei luoghi dell'isola quindi sì l'orografia in genere è dall'esterno verso l'interno prima la costa e poi le aree più interne e questa denominazione rispecchia comunque le forme di denominazione tradizionale che riguardano anche l'autonomastica nei contesti urbani la cala che guarda verso Gaeta si chiamerà cala Gaetana che poi viene assimilata viene declinata al maschile oggi si chiama cala Gaetana perché ci sono altre cali dedicate invece a pescatori che sono morte in quelle cale quindi c'è cala Antonio cala non mi ricordo adesso le altre e quindi anche Gaetana che guarda Gaeta è diventata invece Gaetano perché è un nome comune sull'isola ovviamente i santi una cosa interessante così chiudo il discorso della toponomastica che riguarda le isole ma in generale molti luoghi dove c'è un trasferimento di persone da una zona o un'altra molti luoghi vengono denominati con il cognome delle famiglie che si insediano in questi luoghi allora per quanto riguarda il popolamento di Ponza si tratta di tre fasi di colonizzazione dove le prime due prevedono il trasferimento da Ischia quindi da un'altra isola a Ponza di numerose famiglie e si raggruppano per famiglie quindi in determinate zone c'è la presenza di gruppi familiari quindi quelle zone vengono chiamate così come si chiamano le famiglie ad esempio la famiglia Scotto si trova nella zona che oggi si chiama Scotty perché ci sono tanti Scotto la zona la famiglia che si chiama Guarino sono tutti i cognomi dell'area napoletana ovviamente si chiama oggi Guarini dove c'erano i Conte la famiglia dei Conte si chiama i Conti la zona dei Conti la famiglia più numerosa l'abbiamo visto un cognome prima dei Mazzella che è un cognome abbastanza diffuso anche a Ischia si va a insediare nella zona che oggi si chiama Santa Maria ecco lì avviene un processo leggermente diverso molto interessante un toponimo preesistente radicato in maniera più forte perché legato alla presenza del monastero dedicato a Santa Maria permane e prevale quindi anche se la famiglia era la più numerosa comunque il toponimo preesistente religioso radicato forte prevale e questo diciamo mi faccio il caso di Ponza perché ovviamente è quello che conosco maggiormente però può essere sicuramente interessante grazie Arturo non so se ci sono altre domande da rivolgere ad Arturo Lucia vediamo la mano eccola eccomi buongiorno e intanto grazie ai relatori per veramente gli interessanti interventi della giornata e volevo chiedere al professor al dottor Tarascione sul bandidismo e di come sta cambiando e se questa figura sta evolvendo perché il bandidismo come abbiamo visto è stato un fenomeno a lungo negato anche poco studiato associato più che altro al folklore e anche trascurato però qualche anno fa se non ricordo male proprio nel 2021 un quotidiano francese Le Monde ha pubblicato proprio un'inchiesta sulla criminalità corsa e si è basata anche su un documento di una giurisdizione specializzata di Marsiglia che ha parlato del bandidismo corso come un problema che riguarda tutte le forme del fenomeno mafioso oggi però così come per esempio si è compreso anche in Italia che il fenomeno mafioso ha assunto anche delle collocazioni delle connotazioni diverse rispetto a prima cioè se pensiamo al mafioso con la coppola e il baffetto quindi con una propria tassonomia adesso invece se pensiamo alle cronache recenti l'ideale l'immaginario del mafioso è col montone dopo la cattura di denaro di Matteo Messina di denaro di come è cambiato col montoncino degli anni Ottanta gli occhialini e dunque diciamo c'è stata un'evoluzione anche dell'immaginario quindi volevo chiedere così come il banditismo corso si è diffuso anche nella Francia meridionale nella Costa Azzurra se rispetto alle cronache recenti anche che vengono riportate dai giornali se in realtà questa figura sta evolvendosi o se sta cambiando o se l'immaginario è sempre quello che ci ha descritto lei nel suo intervento grazie grazie Lucia allora raccogliamo perché sono mille domande a Giulio c'è qualcun altro vedo una mano alzata Nadia buonasera buongiorno mi sentite? è molto bassa Nadia perché io ho un pochino di problemi con l'audio adesso va meglio? buongiorno buongiorno a tutti e grazie ai relatori io volevo rivolgere una domanda sia ad Arturo Gallia e in particolare a chiedere se in questo processo di narrazione di trasformazione del paesaggio i suoi studi si sono concentrati prevalentemente sull'aspetto cartografico o anche ci sono delle testimonianze di documentazione di narrazione specifica relativa per esempio a relazioni di viaggio a diaristica che possono come sta emerso incrementare e rendere più specifica poi la narrazione appunto della trasformazione del paesaggio in particolare nell'isola di Ponza e poi invece a a Giulio Datasciore volevo chiedere se i suoi studi si sono concentrati anche sul rapporto di comparazione tra la realtà corsa e quella vicina della Sardegna perché il fenomeno del banditismo ha avuto anche un notevole sviluppo in Sardegna e valutare se i suoi studi lo hanno fatto un elemento se emergono elementi possibili di confronto di paragone o di differenziazione tra le due realtà grazie grazie Nadia allora a questo punto aveva iniziato Arturo quindi chiedo ad Arturo di rispondere alla domanda di Nadia e poi passiamo la parola a Giulio grazie grazie Nadia per la domanda sì necessariamente gli studi sono stati hanno previsto un'integrazione di fonti diverse oltre a quella cartografica che forse è venuta non in prima battuta anzi in una seconda fase sicuramente c'è stata l'integrazione con fonti documentali testuali di diversa natura perché ci sono lettere e le lettere sappiamo quanto possono essere importanti soprattutto quelle diciamo i flussi epistolari su livelli diversi quindi tra attori istituzionali che dialogano uno posto a Napoli ad esempio e uno posto in questo caso a Ponza e attori non istituzionali quindi diciamo tutti quegli attori informali che però trasmettono una serie di informazioni assolutamente interessanti spesso al di fuori dei formalismi del testo epistolare appunto istituzionale quindi molto di questo è conservato all'archivio di stato di Napoli principalmente dopodiché su allora letteratura di viaggio in realtà per il periodo su cui mi sono soffermato prevalentemente io che è il settecento non c'è tantissimo c'è una bella relazione scientifica di Dolomier che andò anche a Ponza e ha redatto una relazione di viaggio descrivendo soprattutto gli aspetti geologici proprio dell'isola e ha redatto anche una carta una carta però una di Ponza sì e una di Palmarola quella di Palmarola interessante perché a un certo punto Palmarola è una sola isola con alcuni scogli a nord alcuni scogli a raglioni vogliamo dire a sud lui disegna identifica questi scogli ma l'isola la divide in due isole perché probabilmente non è mai stato sull'isola l'ha osservata da lontano e effettivamente ci sono due rilievi che fanno pensare quando diciamo non c'è una visibilità molto chiara a un passaggio tant'è che dalla terraferma spesso Palmarola si vede come essere due isole proprio perché è molto accentuata questi due rilievi quindi diciamo questa tipologia di informazione che è sempre scientifica non prettamente letteraria nell'ottocento c'è qualcosa di più ed è abbastanza interessante anche perché spesso va a ricostruire le vicende precedenti c'è un testo di un abitante di Gaeta uomo di cultura anche abbastanza alta Giuseppe Tricoli che ricostruisce lo stato dell'isola in quel momento anche con descrizioni geografiche statistiche tipiche della geografia destrittiva della prima metà dell'ottocento e però anche con informazioni storico-culturali quindi è una fonte assolutamente interessante che fotografa un periodo che poi diciamo in qualche modo l'apice della società ponzese prima dell'unità d'Italia poi cambia la fase completamente dal punto di vista demografico l'apice è negli anni 30 del 900 ma anche per altri motivi legati al confino politico però è sicuramente una veramente una fotografia interessante un dispiacere che Luisa ricordava che riguarda gli archivi Luisa ricordava la pessima prassi di separare l'immagine cartografico dal documento testuale perché fonti di tipologia diversa un dispiacere è stato come si dice l'incendio dell'archivio comunale a Ponza ad opera dei galeotti liberati da Pisagane perché Pisagane prima di andare a Sapri passa per Ponza libera i galeotti perché gli serve gente fondamentalmente e questi danno fuoco all'archivio perché ci sono le loro carte e diciamo immedesimandosi il loro uno capisce anche la motivazione però da ricercatore uno dice potevate evitare però è sicuramente diciamo un aspetto un po' più così se posso mi aggiungo a un commento non una domanda a visto che poi per fare da ponte a Giulio è molto interessante come cambia la descrizione nel corso del tempo e diciamo sulle isole io ho riscontrato molto questa diversità di descrizione dei paesaggi principalmente ho visto io però anche della della società della caratterizzazione è stupenda un esempio un contributo che diciamo voglio offrire è riguardo le olie negli anni 14-18 dell'ottocento c'è la diffusione del colera in Sicilia quindi c'è la chiusura dei porti e quindi il commercio che viene bloccato il governatore delle olie che manda la lettera alla deputazione di sanità a Palermo dicendo riapriteci il commercio permetteteci di commerciare perché le nostre isole sono sterili non danno frutti noi siamo troppi anche quello che viene dato è poco sono brulle vulcaniche neanche noi ci vorremmo vivere Yuma padre che negli stessi anni visita le olie racconta tutta la questione del colera che i passaporti dovevano essere passati passare attraverso diciamo percorsi presi con le tenaglie insomma da lontano e affulcati come si faceva per i documenti soggetti a peste e colera in passato funzionava e però descriveva le isole come luminose belle rigogliose ricche di carne di pesce quindi questo contrasto esatto esatto ovviamente questi contrasti che sono divertenti oggi noi quando riusciamo a a contestualizzarli grazie Arturo allora se Giulio ha messo insieme tutte le risposte alle numerose domande decidi tu l'ordine ovviamente se quell'ordine è dato e mi attengo al diritto dovere di brevità perché ho molte domande quindi separo tre minuti a domanda non finiamo e mi riallaccio ovviamente a quello che diceva Arturo e mi sto a ringraziamento per una lettura oltre il dovere cioè al tema della costruzione degli immaginari sociali e alla loro mutevolezza e quindi in quanto tali alla loro legittimità come oggetto storiografico sostanzialmente da questo punto di vista appunto l'esempio è nella molteplicità degli attori sociali in un certo contesto e oppure e o insieme nella consecuzione di fattori di elementi di cesura di elementi di di mutamento da questo punto di vista il ruolo dei dispositivi appunto è illuminato un elemento chiave se c'è un ruolo un dispositivo che aiuta più di altri alla definizione di questi tipi sociali risponderei che nì nel senso che è chiaro che per esempio l'avvento del romanzo come dispositivo narrativo privilegiato nella letteratura europea globale in realtà dà uno spunto come dire forte tuttavia io insisterei sul carattere oggi diremmo con una parola che a volte farà brividire ma secondo me è pertinente di transmedialità di questa cosa se noi prendiamo la transmedialità come concetto e come strumento vediamo che anche in contesti come dire in cui va dosata questa questa parola con le cautele del caso vediamo dei processi di transmedialità di intermedialità chiamiamoli poi a seconda e quindi come dire di costruzione ulteriore di senso via via che i dispositivi si moltiplicano questo un po' da questo punto di vista l'interesse specifico dato che siamo in questa sede e ci tengo a rimarcarlo le fonti geografiche per me per esempio cosa hanno rappresentato io sto avviando una ricerca in realtà su Maltebran come si sarà capito cioè la condensazione di luoghi comuni che hanno origini varie in cui come dire c'è una circolazione eccetera eccetera che si condensano e nel contesto dell'immaginario sociale diventano saperi e questo è un punto forte uno come Maltebran che è come dire visto come dire come una persona che ragiona per stereotipi e che quindi come dire rallenta per così dire l'evoluzione di una scientificizzazione come dire come la intendiamo noi a me interessa proprio perché ragiona per essere otti perché è possibile vedere plasticamente queste definizioni farsi sapere scientifico e a quel punto c'è una legittimità diversa cioè quindi le funzioni che svolgono i dispositivi sono diverse l'esaurimento del bandito sarò più rapido nel senso che a me sembra evidente che la stagione del positivismo siamo anche qui una categoria un po' vasca un po' vaga però la stagione del positivismo in questo caso particolare la nuova antropologia criminale lombrosiana e in realtà in Francia la cassagnana soprattutto segna un passaggio di porte sicuramente nella prospettiva la scientificizzazione la biologizzazione porta a un elemento di cesura al tempo stesso richiamo quell'elemento di dialogo con le costruzioni di narrative romantiche lombroso per capirci e fare uno spot lombroso è uno di quelli che dice Eugène Su aveva capito tutto dei criminali solo che non aveva gli strumenti scientifici per dimostrare scientificamente ebbene ora tocca a noi dimostrare quello che i letterari letterati romantici avevano capito ma non avevano la possibilità di dimostrare e questo chiama vado in avanti l'elemento un po' cioè quando in questo caso i banditi quando un immaginario muore allora muore o agonizza allora si folclorizza questa mi è sembrata un po' una costante in varie dicende che ora non restituisco però come dire quel racconto di Arend e della coscia porta un po' a vedere come nel momento in cui questo fenomeno non è più pericoloso diciamo così allora è possibile folclorizzarlo in forme anche appunto commerciali e turistiche di cui arrivo alla terza domanda le rappresentazioni autorappresentazioni le rappresentazioni proposte dai banditi beh beh la coscia è lì è lì è lì a disposizione di tutti e soprattutto esercita una agency chiamiamola così è un un autoracconto che in realtà appunto deriva anche da precedenti e quindi esiste una forma è chiaro che lì come dire gli strumenti anche culturali fanno la differenza e mi fermo qua sulle altre domande quando esiste un fenomeno mafioso ovviamente è un terreno minato e quindi a cavo con grande eleganza rimarcando il fatto che c'è un'evoluzione come se c'è un'evoluzione ed è interessante vedere però come per esempio queste narrazioni diciamo così possano essere riesumate all'occorrenza oggi a seconda appunto dei lettori storici dell'oggi e quindi della funzione che l'oggi determina questo vale per la corsica come per tutto e però rischia di offuscare la funzione storica come dire di tutto questo io sono dell'idea che appunto nella categoria di immaginario sociale stanno insieme appunto le rappresentazioni e le pratiche e che poi ovviamente uno guarda più quello che però come dire tutto questo ha a che fare con la funzione sociale del banditismo in antico regime e poi in ottocentesco cioè il banditismo è una forma di organizzazione della violenza in un contesto rurale ad alta conflittualità partiamo da questo presupposto e ci smarchiamo da tutta una serie di trappole che dall'oggi ci fanno come dire prefigurare ciò che accadrà e quindi vedere gli antecedenti le origini del fenomeno mafio questo se pensiamo alla Sicilia o alla Calabria oltre alla Corsica noi vediamo classicamente come ci siano delle trappole ogni passo da questo punto di vista l'ultima domanda riguarda il rapporto di comparazione tra Corsica e Sardegna allora sì sì e mi nel senso che poi io la Sardegna in realtà non ammetto francamente di non aver mai studiata come si deve quindi nemmai lo farò perché non studierò più i briganti i banditi e questo è un annuncio diciamo che faccio così ma l'ho fatto varie volte vabbè però il tema come dire lì della comparazione due parole chiave per vedere come questa comparazione in realtà facendola seriamente emerge qualcosa è che un tema di banditi d'onore quindi anche in realtà riguarda un po' la Sardegna questo discorso emergono come fattori e categorie chiave di comprensione uno l'insularità concetti l'insularità e due l'individualità rapidissimamente in tutta questa narrazione come dire facendo una cosa a me familiare per i briganti italiani il discorso in realtà porta a una distinzione da parte degli attori storici cioè vedono le cose come diverse perché perché sull'isola c'è una folclorizzazione una attribuzione di senso a l'insularità sull'isola le cose vanno diversamente non non mi dilungo e quel diversamente è il sistema della vendetta e poi il fatto che questi banditi al netto della realtà del dato di realtà sono banditi singoli anche qui sto andando un po' schematicamente però la restituzione è quella di individui che messi al bando si danno alla macchia e esercitano una forma di come dire di potere individuale laddove il brigantaggio continentale insiste sul tema della banda allora questo è ovviamente una così uno spunto che offro troppo schematicamente ma ne rendo conto siamo tutti stanchi e la mattinata è stata lunga però come dire ci porta di nuovo al punto a cui ritengo cioè il fatto di vedere queste figure criminali all'interno di un favore condiviso in cui ogni figura criminale ha poi le proprie specificità ma in cui se noi isoliamo fenomeni e questo riguarda il punto finale di compituto cioè riguarda la distinzione storiografica che viene messa in discussione mentre si proporre a voi come proposta di lettura la distinzione tra crimine urbano e crimine rurale distinzione ovvio ma la puoi dire l'idea che uno sia una cosa e si studia l'altro sia un'altra cosa e si studia la cosa che sono forse più dialogiche quindi questa è una proposta di lettura che faccio io ti ringrazio non so se ci sono altre domande in sala non c'è nessuna domanda a questo punto non so Arturo ti passo a te la parola io vi ringrazio ringrazio soprattutto ringrazio che è intervenuto Giulio e Arturo per ripeto le brillanti letture che ci hanno dato che ci hanno offerto e questo è il penultimo e il prossimo ecco dacci qualche attuaglio in merito alla chiusura di questo ciclo ripeto interessantissimo grazie veramente per le belle parole belle intese come di sostanza di sostanza nei contenuti di quanto abbiamo abbiamo detto grazie Giulio veramente per lo spunto gli spunti assolutamente interessanti e anche per lo spoiler delle tue prossime ricerche ma torneremo a parlare del dialogo tra Maltebrune e Adriano Baldi e questo lo faremo lo faremo poi in futuro e questo poi diremo più è bello che annunciamo cose a cui probabilmente interessa nessuno va bene che si perdonate perdonate diciamo l'aspetto folcloristico per rimanere in tema chiudiamo quindi ringraziando nuovamente la società geografica per tutto veramente e il prossimo appuntamento è martedì 23 maggio che è la chiusura il tema sarà legato alle marginalità quindi declinato nei contesti insulari le questioni appunto sui margini e sulle società marginali e relatrici saranno Dionisia Russo Krauss dell'università Federico II di Napoli e Federica Montalto dell'università di Bari Discussant per l'occasione saremo io e Stefano Malatesta col quale chi ha seguito diciamo i vari incontri abbiamo sempre dialogato oggi è presente solo virtualmente cioè neanche da remoto ma virtualmente per altri impegni giustamente occorsi e il 23 maggio sarà l'ultimo incontro e faremo anche un po' il punto in generale sulle due esperienze del primo ciclo dei seminari che aveva un altro nome un'altra configurazione un'altra organizzazione ed era tutto completamente online che peraltro era del 2021 secondo discorso e è questo insomma perché questo si pone comunque in sequenza ideale a quello e probabilmente alcuni fili comuni ci sono altri discorsi diversi sicuramente anche ci sono e quindi andremo a fare anche un po' la sintesi detto questo non credo di aver dimenticato nulla e nessuno quindi ci vediamo il 23 maggio e grazie grazie buon appetito arrivederci a tutti sia chi presente in sala sia chi connesso da remoto a chi Grazie a tutti